Questa è la mia terra. Qui hanno vissuto i miei antenati e qui vivo io con i miei fratelli. Tommaso! Aspettatelo poco, però li ho portato il provolone del Monaco, io dico il provolone delle colline vicane. La famiglia De Gennaro si occupa della produzione del provolone del Monaco. Dopo 5 generazioni siamo ancora qui a conservare la nostra tradizione. Mi chiamo Tommaso De Gennaro e ho dedicato la mia vita all'arte caseale.